Pace bene a tutti i nostri telespettatori. I titoli di questa edizione del telegiornale sono i seguenti. I missionari della misericordia mostrano il volto materno della Chiesa. I sacerdoti spagnoli raccontano l'emozione nel ricevere l'incarico dal Papa e la grande responsabilità e gioia nello stare al confessionale. Siria. Monsignor Gadeshi sfugge a un attentato. Il presidente della conferenza episcopale polacca aveva appena concluso una missione di cinque giorni in Medio Oriente e poco dopo la strage a Damasco con 80 morti e numerosi feriti. Sempre in Siria, liberati 43 cristiani assiri e ostaggi dell'Isis. Si tratta degli ultimi prigionieri del gruppo catturato dai miliziani nella valle del Kabor nel febbraio del 2015. Bangladesh. Attentato in un tempio induista. Bombe a mano e spari durante la preghiera dei fedeli. Ucciso un bramino e ferite due persone. I sospetti a cellule islamiche legate all'Isis. Rupnik. Abbiamo bisogno di una Chiesa bella e non para-imperiale. La meditazione del teologo gesuita in occasione del giubileo della curia romana. Infine le notizie di casa nostra. Passiamo alla prima notizia. Il Papa Alangelus nessuna condanna a morte durante il giubileo. Papa Francesco, al rientro dal viaggio in Messico, lancia un appello per l'abolizione della pena capitale. Nel settembre scorso aveva già rivolto un'analoga esortazione al congresso americano e recentemente era tornato sull'argomento con il suo discorso per la giornata mondiale della pace del giubileo della misericordia, celebrata il primo gennaio 2016. Dopo l'Angelus di domenica scorsa, il Papa fa un accorato appello alla coscienza dei governanti affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di morte e propone a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare che nessuna condanna venga eseguita in questo anno santo della misericordia. Il Papa ha colto l'occasione per ricordare anche l'imminente convegno internazionale dal titolo per un mondo senza la pena di morte, promosso dalla comunità romana di Sant'Egidio, con l'auspicio che il simposio possa dare un rinnovato impulso all'impegno per l'abolizione della pena capitale. Un segno di speranza è costituito dallo sviluppo nell'opinione pubblica di una sempre più diffusa contrarietà alla pena di morte, anche solo come strumento di legittima difesa sociale. In effetti le società moderne hanno la possibilità di reprimere efficacemente il crimine senza togliere definitivamente a colui che l'ha commesso la possibilità di redimersi. Il problema va inquadrato nell'ottica di una giustizia penale che sia sempre più conforme alla dignità dell'uomo e al disegno di Dio sull'uomo e la società, oltre che ad una giustizia penale aperta alla speranza del reinserirsi nella società. Il comandamento non uccidere ha valore assoluto e riguarda sia l'innocente che il colpevole. Il giubileo straordinario della misericordia è un'occasione propizia per promuovere nel mondo forme sempre più mature di rispetto della vita e della dignità di ogni persona e anche il criminale mantiene l'inviolabile diritto alla vita, dono di Dio. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi ad operare non solo per l'abolizione della pena di morte, ma anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. Passiamo alla seconda notizia. I missionari della misericordia mostrano il volto materno della Chiesa. In occasione della messa del mercoledì delle ceneri presiedute in Vaticano dal Santo Padre, sono stati invitati ufficialmente più di mille sacerdoti giunti da ogni angolo della terra per ricevere l'incarico speciale di missionari della misericordia durante tutto l'anno giubilare. Essi devono essere un segno vivente di come il Padre accoglie tutti coloro che sono in cerca di perdono, devono svolgere il loro servizio come confessori disponibili, gentili e compassionevoli, particolarmente attenti alle difficili situazioni delle singole persone. Il Papa ha sottolineato che essere missionari della misericordia è una grande responsabilità perché si è in prima persona testimoni di Cristo e del suo modo di amare. Alcuni sacerdoti raccontano l'emozione nel ricevere l'incarico dal Papa e la grande responsabilità e gioia nello stare nel confessionale. Il sacerdote spagnolo della diocesi di Caceres, Jesús Luis Vignas, ha raccontato cosa significa per lui questa missione. In un primo momento pensava che si trattasse di uno scherzo, ma quando il vescovo della diocesi ha confermato la veridicità della notizia si è pensato che fosse qualcosa che andasse al di là delle proprie capacità e che non restasse che impegnarsi in questo nuovo e speciale lavoro, che fa venire in mente il testo di Paolo. Ti basti la mia grazia per affrontare l'incarico con entusiasmo. Padre José Aumente Dominguez, direttore del Dipartimento della Pastorale per i Circhi e per le Fiere della Segreteria del Comitato Episcopale sulle Emigrazioni, ha sottolineato l'idea che la Chiesa debba essere come una madre e tra i punti salienti del discorso del Santo Padre ha individuato il modo in cui ha parlato, ossia da parroco a parroco, da confessore a confessore, da pastore a pastore. Per spiegare meglio come si debba ricevere una persona che viene a confessarsi e come deve essere trattata. Oggi la grande sfida di un confessore è quella di esaminare il motivo per cui le persone abbiano abbandonato il sacramento della riconciliazione perché non sentono più il bisogno di confessarsi e puntualizza che è stato perso il senso del peccato. Conferma di aver vissuto esperienze molto significative al confessionale. Infatti, attraverso il sacramento della riconciliazione si compie la misericordia di Dio che regala la vera conversione. Passiamo alla prossima notizia. Siria. Il presidente della conferenza episcopale polacca sfugge a un attentato. Monsignor Stanislav Gadesci è scampato a un attentato terroristico in Siria. Il presule è stato in visita a Damasco dal 17 al 22 febbraio, facendo in tempo a ripartire prima della strage nella capitale siriana, in cui hanno perso la vita 80 persone e numerose altre sono rimaste ferite. Al termine della missione Medio Oriente, il presidente della CEP della conferenza episcopale polacca ha dichiarato che lo scopo della visita era di carattere ecclesiale. Non si vuole ricollegare alla politica e nemmeno agli aiuti umanitari. Si è trattato di uno dei più pericolosi, ma anche uno dei più importanti viaggi. Egli afferma che l'impedimento è stato quello di affidare a Dio i fratelli cristiani e rinforzare in loro la speranza, come insegnano le parole di San Paolo. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. 1 Corinzi 12, 26. Monsignor Gadesci ha riferito di aver assistito a immagini di guerra molto tristi. Tuttavia, nonostante la tragedia, è emerso anche il grande entusiasmo della fede, dedicando momenti di preghiera per coloro che hanno perso la vita e per quelli che soffrono. Il presidente dei vescovi polacchi ha visitato la Siria e il Libano insieme a Don Vladmar Cislo, direttore della sezione polaca di aiuto alla Chiesa che soffre, e insieme, dal 2009, promuovono nelle proprie diocesi raccolte di fondi per aiutare i bisognosi in paesi come India, Sudan, Nigeria, Egitto, Libano e Siria. Passiamo alla prossima notizia. Sempre in Siria, liberati 43 cristiani assiri e ostaggi dell'ISIS. Sono tutti liberi i 230 cristiani assiri, tra i quali molti bambini e donne, che erano stati catturati dai miliziani durante un'offensiva nella valle del Kabor, nella provincia nord-orientale siriana di Asake, dello Stato Islamico. I giadisti hanno rilasciato in questi giorni gli ultimi 43 prigionieri del gruppo catturato il 23 febbraio del 2015. La notizia da fonti attendibili della Chiesa Asira, in particolare dall'Organizzazione per il Soccorso per la Chiesa Asira dell'Est, che afferma che non rimane più alcuno stagio ed esprime i ringraziamenti senza riserve a tutti i sostenitori istituzionali o individuali che sono stati a fianco degli assiri della Siria in questi difficili 12 mesi. Tre ostaggi erano stati uccisi lo scorso ottobre dall'ISIS, che aveva diffuso via web le immagini delle esecuzioni per ribadire le ingenti richieste di pagamenti dei riscatti. Fonti locali riferiscono che per la liberazione dei prigionieri era stata richiesta inizialmente una cifra pari a 23 milioni di dollari, 100 mila per ogni ostaggio. Il riscatto era stato poi abbassato a 14 milioni di dollari, ma ancora oggi non è chiaro se esso sia stato effettivamente pagato e quanto denaro sia stato consegnato allo Stato islamico. Intanto i miliziani continuano a seminare distruzione e morte nel paese. Proprio qualche giorno fa è giunto un bilancio, per ora provvisorio, delle vittime degli attentati a Damasco e a Homs, rivendicati dall'ISIS. 180 morti e 200 feriti. Dati che fanno ritornare la preoccupazione per la capacità operativa dei miliziani in Siria, dopo le notizie che la loro avanzata fosse arginata dai raid rossi. Passiamo alla prossima notizia. Bangladesh. Attentato in un tempio hinduista. Spari e bombe a mano sono esplose il 22 febbraio in un tempio in Bangladesh. Nell'attacco è stato ucciso un leader religioso hinduista e altri due fedeli sono rimasti gravemente feriti. Un gruppo di assalitori è entrato nel tempio vicino al confine con l'India, mentre erano in corso le preghiere, lanciando alcune bombe a mano. Nella concitazione il bremino di 50 anni è stato accoltellato all'uscita dal luogo sacro. Poi gli attentatori hanno sparato i due devoti che erano con lui. Entrambi sono in condizioni critiche all'ospedale di Rangpur. Già nei mesi scorsi il Bangladesh ha registrato diversi episodi di violenza contro minoranze religiosi e stranieri. Tra questi anche due italiani, il cooperante Cesare Tavella è il missionario Piero Parolari. Nessuna rivendicazione dell'assalto, ma si sospettano gruppi islamici legati all'Isis. Passiamo alla prossima notizia. Rupnik, abbiamo bisogno di una chiesa bella e non paraimperiale. In occasione dell'apertura del Giubileo della Curia Romana e delle istituzioni alla Santa Sede, il teologo gesuita padre Marco Ivano Rupnik, nella sua meditazione pronunciata nell'aula Paolo VI la mattina del 22 febbraio, parla di una chiesa che sia misericordiosa, accogliente, generosa e che non ceda a tentazioni parastatali o, peggio, paraimperiali. Secondo padre Rupnik, la nostra fede è accoglienza di una vita e il compito della chiesa è quello di manifestare di quale grazia, di quale bontà siamo stati destinatari, quindi mostrare al mondo cosa Dio abbia fatto di noi, scorrendo attraverso l'umanità. C'è una tentazione ricorrente che non riguarda solo la Curia Romana, ma ogni curia ed è quella di acquisire un carattere un po' parastatale o paraimperiale come nel passato. Si tratta, ha aggiunto il gesuita, di una tentazione tremenda perché mette nel cuore la funzione, la struttura, l'istituzione, l'individuo che è sempre in funzione di qualcosa. Sarebbe uno scandalo mostrare al mondo un cristianesimo vissuto come realtà individuale. Laddove la chiesa, nella sua modalità di strutturarsi, di governare, di dirigere e di gestire, deve esprimere invece comunione e inclusione. Nessuno dunque si incamminerà e mai dietro una chiesa brava, ma avrà attrattiva soltanto verso una chiesa bella, che nei suoi gesti e nella sua predicazione faccia emergere altro. Il figlio e il padre, affinché l'uomo diventi luogo della vita, come comunione e misericordia. È necessario dunque, ha sottolineato il gesuita, che emergano anche nella curia persone libere, libere da se stesse, che si offrono disponibili e generose. La missione della chiesa è quella di coprire la distanza tra noi e il nostro uomo contemporaneo, ferito, dolente e provato come noi. Più saremo provati, come tutti gli uomini, più saremo misericordiosi e riusciremo a coinvolgere le persone in un desiderio di vita nuova. L'essere umano non può da solo coprire la distanza che separa l'uomo perduto e pecatore da Dio vivente. Solo Dio può, che manifesta la propria identità con la misericordia verso noi e verso la creazione. Se Dio passa attraverso noi, saremo capaci di portare il frutto disseminato, che è capace di avvolgere il suo lavoro nell'amore, che rimane in eterno, perché torna al Padre. Ciò che l'uomo può rivelare è la sua divina umanità in Cristo, ha poi concluso il teologo Rupnik. Infine, le notizie per coloro che frequentano il nostro santuario. Venerdì 26 febbraio avrà luogo il più esercizio della Via Crucis, una prima volta alle ore 17.15 e la seconda volta in tarda serata alle 21. Domenica 28 e lunedì 29 febbraio, a Ismolas, i frati Capuccini ricorderanno il ventiquattresimo anniversario del Pio Transito del Servo di Dio Fra Nazareno. Domenica 28 alle ore 10.15 la Santa Messa Solenne verrà celebrata da Monsignor Mosè Marcia, Vescovo di Nuoro. E lunedì 29 febbraio alle 18.30 la Santa Messa sarà celebrata da Monsignor Arrigo Miglio, Vescovo di Cagliari. Il programma delle due giornate è stato già reso noto. Nella nostra chiesa giubilare di Sant'Ignazio, nel prossimo mese di marzo, avranno luogo le 24 ore di preghiera per il Signore, a cui parteciperanno tutte le comunità ecclesiali presenti nel territorio della Fonania che fa capo alla Catedrale, le quali si alterneranno secondo un turno prestabilito nello spazio delle 24 ore, a partire dalle 9 del mattino dei giovedì 3 marzo fino alle 9 del mattino del giorno successivo. I nostri cappuccini saranno presenti dalle ore 24 alle ore 4 del mattino di venerdì 4 marzo. Il nostro Tg è terminato e noi ci congediamo con il consueto saluto francescano di pace e bene. Grazie a tutti.